Benvenuti a tutti, sono le ore 15, abbiamo organizzato per questo pomeriggio un webinar che durerà 45 minuti, forse durerà di più, vediamo. Qual è l'obiettivo che siamo posti? Dobbiamo provare ad offrire un punto di vista, una riflessione strutturata su quelli che sono i temi chiave della ripresa. Abbiamo affrontato e attraversato prima il momento e la fase dell'emergenza, poi la fase della ripresa, della ripresa del lavoro, poi quella del rilancio, ma in verità tutti noi oggi abbiamo chiara e abbiamo consapevolezza che dovremmo affrontare un periodo di grande incertezza che ha un orizzonte temporale che possiamo collocare nei prossimi 6 più 12 minuti. Tutti i dati elaborati in questo ultimo periodo ci dicono che una ripresa effettiva ci sarà soltanto dal 2022 e per certo oggi ci troviamo comunque a gestire una fase ancora emergenziale. Guardiamo alcuni dati, ci sono aziende, molte, che hanno terminato le 18 settimane di cassa e per tanti quindi la domanda è oggi che cosa fare con i lavoratori ancora da sospendere, ancora sospesi. Quindi guardiamo anche fuori, non è vero che siamo ripartiti, alcune attività, alcune regioni, alcuni distretti stanno faticosamente ripartendo ma i numeri smentiscono che vi sia una vera e propria ripresa. Quindi proviamo a mettere a fuoco quelli che sono i temi per accompagnare aziende e noi con loro in questa fase di ripartenza e quindi nei prossimi, io dico, 3-6 mesi. Non ha senso guardare molto oltre. Che cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo identificato 10 temi e per questi 10 temi abbiamo preparato una serie di domande. 5 domande per ogni tema, 50 domande, che proponiamo come strumento per iniziare a ragionare guardandoci dentro. Iniziare a ragionare su quelle che sono le tematiche da affrontare nel prossimo futuro. Farci le domande è importante perché nel confronto sulle risposte intanto emergono altre domande e poi nel confronto, nella condivisione delle risposte, iniziamo a definire quelle che sono le linee guida che ci accompagneranno nel prossimo futuro. Quindi è proprio un metodo quello che provo a suggerire, quello di cominciare a farci delle domande, ne abbiamo poste 50, ragionare sulle risposte, condividere le risposte. Ed è quello che cercheremo di fare, che cercherò di fare anch'io oggi in questo talk, nella seconda parte, quando andremo a guardare insieme le domande che abbiamo preparato e cominceremo a dare qualche stimolo, qualche spunto per ragionare sulle misure concrete da adottare in azienda. Avendo chiaro una cosa, non possiamo aspettarci che ci diano una mano. Questa è una cosa che ci deve contraddistinguere. Non possiamo aspettare che arrivi il fondo delle nuove competenze. Non possiamo aspettare che arrivino le sovvenzioni regionali per gli aiuti alle aziende che non licenzeranno. Dobbiamo iniziare a ragionare anche a prescindere che ci sia o meno un blocco ancora di licenziamento, un'estensione della cassa per altri sei mesi. Sicuramente le casse saranno estese. Vedremo se in modo selettivo, come qualcuno dice. Vedremo se sarà prorogato il divetto di licenziamento escludendo alcune ipotesi. Ok, certo, ma noi dobbiamo ragionare a prescindere di questo. Perché non è con i licenziamenti che ristruttureremo o ripartiremo. Certo, faranno parte delle misure possibili, ma non è solo la cassa, ci sono tanti temi. Allora, come ho provato a impostare questo torde? L'ho provato a impostare in questo modo. Intanto ho selezionato dal 10 di marzo ad oggi tutta una serie di articoli, letture, spunti che vi offro come momento di riflessione per aprire un po' la mente. E li metto a disposizione di chiunque vorrà farci richiesta. Cioè li abbiamo classificati, catalogati e sono a disposizione come una biblioteca che mettiamo a disposizione per leggere, farsi un'opinione. Su quelle letture, su quelle riflessioni, su quello che è successo in questi mesi, abbiamo poi elaborato alcune nostre visioni, alcune nostre convinzioni. Quindi la seconda parte è che cosa abbiamo imparato da questa situazione. E infine la parte costruence, dove proviamo a dire sui dieci temi le domande che dobbiamo farci e le misure che possiamo mettere in campo già da ora. Questo è il modo in cui vogliamo lavorare in questi 45 minuti, dando quindi uno stimolo, un spunto di riflessione. Oggi non impareremo a fare delle cose. Tutti i giorni, come sapete, martedì, mercoledì, giovedì, di ogni settimana, ormai da marzo, abbiamo organizzato, organizziamo webinar di aggiornamento, di approfondimento. Oggi proviamo ad alzare un po' la testa e prenderci un po' di tempo per farci un po' di domande. Molti di voi ritroveranno in questo che ho detto, che dirò, molte delle cose che già sanno, che già hanno fatto. Già questo è confortante, dico io. Ma l'obiettivo che ci poniamo è di dare qualche spunto in più, qualche stimolo in più, che viene dall'esperienza. Noi che cosa possiamo portare? Possiamo portare l'esperienza di chi lavora con tante grandi aziende, grandi e medie, e tanti professionisti. Questo è il nostro vantaggio. Quello di poter condividere con voi opinioni, spunti, riflessioni, con il nostro metodo. Ecco, questo è un po' invece il nostro tratto distintivo. Allora, cominciamo. Oggi proviamo a fare anche una cosa diversa dal solito, perché proviamo a fare una inquadratura più stretta, in modo che vi consenta di parlare insieme un po', ma voi tutti potete guardare, ascoltare e avere sotto mano le slide. Per cui, con il video avete la persona che parla e sotto le slide. Comincio intanto ricordando a tutti l'appuntamento che abbiamo in agenda per il 6 di ottobre. Abbiamo scelto di spostare la sede di questo incontro dall'orto botanico di Padova, che è un posto meraviglioso, a un altro posto meraviglioso che è il Palazzo della Ragione. Perché? Proprio per assicurare a tutti la massima sicurezza e il massimo rispetto di quelle che sono le regole di sicurezza, igiene, salute per tutti. Quindi, pensate che la capienza di questo posto meraviglioso, che vale la pena solo visitare, quindi segnatevi questo in agenda, anche solo per vederlo, è di 800 persone e noi ne avremo 200 e quindi abbiamo deciso di dividere la giornata in due sessioni. Una sessione mattutina, 10.30, 13.30 e una sessione pomeridiana, 14.30. 17.30, in modo da consentire al maggior numero di persone di partecipare. Poi l'evento, lo dico già, sarà anche in diretta a YouTube, per cui tutti quelli che non potranno partecipare potranno comunque vederlo. Allora arriviamo così. Io ho, che cosa ho fatto in questi mesi? Ho provato a selezionare una serie di articoli, letture, che ci hanno fornito stimoli importanti per poter ragionare su quello che sarà il futuro. Li ho messi in questa presentazione in modo disordinato, non in modo cronologico, ma proprio per prendere come titoli. Quali sono le sfide che ci aspettano nel prossimo futuro? Ecco, questo è quello che faremo allora nella prima parte di questo talk. 10 minuti, 5 minuti, 10 minuti, in cui passando in rassegna un po' articoli, letture, titoli, proveremo a identificare quelli che sono i temi chiave del prossimo futuro. La vera sfida adesso è trasformare il lavoro da remoto in smart, da lavoro costretto a lavoro intelligente. Molta parte della letteratura di queste settimane, di questi mesi, tocca i temi della organizzazione del lavoro e del lavoro a distanza, con articoli dei più vari, caro, vecchio ufficio, non mi serve più. Quindi si viene a mettere in discussione anche quelle che sono le modalità, le logiche di organizzazione degli spazi di lavoro e del lavoro a distanza e del lavoro in sede. Sicuramente, come dichiara qui un ex manager di Twitter, non si tornerà indietro, sicuramente quello che abbiamo vissuto in questi mesi ci ha convinto di alcune cose. Il primo è che si possa lavorare a distanza e il secondo è che lavorare a distanza non è male, anche se abbiamo anche capito che dobbiamo essere pronti per farlo, attrezzati per farlo, ma aggiungo anche un'altra cosa, abbiamo però anche capito l'importanza delle relazioni di lavoro. Perché quanti ci hanno restituito in queste settimane che sono rientrati anche questa dimensione di distanza come dimensione di isolamento, come dimensione di mancanza di relazione. E questo è uno dei temi. È il momento di un mix nuovo tra lavoro remoto e in presenza. Sicuramente questo è uno dei temi, ma dobbiamo essere capaci di organizzare il lavoro alternando stabilmente i momenti di sede come momenti a distanza. Ma non solo. Diamo tempi smart a tutti in fabbrica team di riserva. Una delle domande che ci facciamo è, ma cosa facciamo con quelli che non possono lavorare a distanza? Tipicamente i blue collar, tipicamente tutta la popolazione delle persone che lavorano in fabbrica. E allora lì ritorna una vecchia idea di ragionare sul lavoro smart anche come, o lo smart work anche come strumento di premialità e poi proverò a dare uno spunto di riflessione. Lavorare a distanza però significa anche iniziare a definire delle regole. Una delle cose che tutti abbiamo visto è che lavorando a distanza non c'erano confini, non c'erano paletti, le persone ti chiamavano o ti scrivevano alle 8 della sera come se fossero le 3 del pomeriggio. E allora tutto il tema del diritto alla disconnessione come il tema della remunerazione. La settimana scorsa è uscita nella rassegna stampa una sentenza del Tribunale di Venezia che ha rigettato una richiesta per veder pagati i buoni pasto per chi lavora a distanza. Ma noi abbiamo parlato anche con aziende che comunque hanno deciso di pagare i buoni pasto anche a distanza. Ora questo pone una serie di criticità da un punto di vista giuridico e anche fiscale, ma lasciamo stare il tema poi è anche diritto a disconnettersi, orari, i buoni pasto, i nodi del lavoro da casa. Ripeto, un po' di stimoli per aiutarci ad entrare in una riflessione più ampia. Si è ritornati a parlare di reshoring. È una parola che a molti suona vuota, ma in verità ha un significato importante. E cioè, nel momento in cui si sono chiuse i confini, nel momento in cui è diventato difficile approvvigionarsi di beni, materiale, materie prime, molti hanno capito anche che delocalizzare si portava dietro anche tutta una serie di altri effetti negativi. E oggi molte aziende stanno pensando a rimodulare la catena di approvvigionamenti, riportando in Italia, appunto reshoring, attività produttive. Questo è un tema. Nel giornale di oggi, nel mattino di oggi, si dava ad esempio conto di quello che ha fatto Sitla Precisa, azienda che sta qui vicino, azienda importante, quotata in borsa, che ha deciso di aprire due fabbriche in Tunisia. Cioè spostare una parte della produzione dall'Italia alla Tunisia, o comunque allargare la produzione anche in Tunisia, ma perché c'è bisogno anche di allargare gli spazi oltre che di portarlo indietro. E quindi vedremo adesso un altro dei temi che vi proporrò. Poi, fragilità. È una parola che fino all'altro ieri nessuno usava in azienda, le persone fragili. Invece, durante questo periodo, abbiamo scoperto che le nostre aziende sono piene di persone con paure e con fragilità e con bisogni di cura. Mai come in questo periodo, se ci pensate, abbiamo avuto la possibilità di conoscere le persone con cui lavoriamo anche nelle loro debolezze, ma anche nelle loro esigenze. E quindi, un articolo come questo, veramente interessante, dalle fragilità emergenti, un welfare digitale più forte. Cioè, mettere a servizio il welfare anche dei bisogni di cura delle persone più fragili e quindi iniziare a strutturare percorsi di welfare che tengono conto anche dei bisogni di assistenza, dei bisogni di cura. La contrattazione collettiva non è ferma. Questo è un articolo chimica e farmaceutica apripista sul lavoro flessibile, ma per obiettivi. Nella chimica e nella farmaceutica sono stati sottoscritti in questi ultimi giorni due accordi quadro per iniziare a regolare il lavoro a distanza, introducendo forme di misurazione per obiettivi del lavoro cosiddetto flessibile. Questo perché poi necessariamente sarà la contrattazione collettiva a dover dare una risposta a questi bisogni, in particolare in certi settori. Poi, sempre sullo smart working, qui ho selezionato questo articolo per due ragioni. Il primo perché ci ricorda che per le donne è stato anche un doppio lavoro e questa immagine è stupenda perché è vero che eravamo al lavoro a distanza, ma magari avevamo anche bisogno di accudire i figli anche perché i nonni non potevano esserci, le babysitter non si muovevano, anche perché erano irregolari. Questo è uno dei temi che abbiamo dovuto toccare. E ancora, due articoli. Questa è una intervista stupenda perché Silvia Candiani è l'amministratore delegato di Microsoft in Italia e anche qui c'è un articolo, un'intervista che vi ho selezionato, che dice essenzialmente questa. La digitalizzazione e la robotizzazione potranno aiutare le aziende a riportare in Italia parte della manifattura. Quindi effetti anche positivi di questa trasformazione a cui tutti stiamo assistendo. E poi c'è il tema di chi saranno i soggetti, le persone su cui maggiore sarà l'impatto della crisi. Per molti saranno i giovani, generazione Covid, i giovani pagano la crisi, ma anche e in Germania a rischio sono apprendistato e stage. Io vi segnalo una lettura però davvero interessante. La prendo qua. È uno dei libri che è uscito in questo periodo, Pietro Echino e l'intelligenza al lavoro. Non faccio il promoter, ma in questo libro c'è un pezzo veramente molto bello, una parte iniziale, dove dice due cose. La prima. Esiste un bacino di lavori che non trovano lavoratori. Più di un milione e mezzo di lavori, di posti di lavoro che non hanno un'occupazione. Ed è interessante andarlo a leggere perché poi raccogliendo dati vengono anche identificati quelli che sono i perimetri del lavoro senza lavoratori. Quindi è vero che i giovani pagheranno la crisi, ma è anche vero che per tanti ci sono grandi opportunità. Bisogna però sapere dove muoversi. E allora il libro è bello da leggere anche perché ti dà questo spunto di lettura. Vado sempre veloce perché poi voglio andare sulla parte più importante. Un capo del personale su due, l'impatto sarà strutturale. La domanda che ci fanno in tanti è ma a ottobre, in autunno, che cosa succederà? Sicuramente ci saranno problemi di ridimensionamento degli organici, esuberi, ridefinizione dei costi. Ma comunque c'è da guardare anche in positivo l'altro articolo, la trasformazione dei lavori in Europa. A 90 milioni servono nuove competenze. Tutto il tema dei nuovi lavori, nuove competenze, perimetri di lavoro nuovo. Leader anche a distanza e flessibili. Una delle tematiche che dovremmo oggi aver chiaro è che se organizziamo il lavoro a distanza, dobbiamo anche cambiare il modo di gestire da un punto di vista manageriale e team di lavoro e costruire leadership flessibili a distanza. Poi qualche stimolo ancora. Una delle tematiche che abbiamo affrontato tutti in questo ultimo periodo è stata anche quella dell'esplosione del food delivery, dell'home delivery, ma correlativamente anche le inchieste che hanno portato ad esempio al commissariamento di Uber Eats a Milano un tribunale a commissariato per caporalato. Ho scelto questi due articoli, uno perché è un'inchiesta davvero molto interessante di Repubblica e l'altro invece è una notizia che mi ha fatto sorridere. Addio il fattorino del food delivery, già in uso droni robot, questo per dire che poi sempre mano d'opera contro tecnologia, una delle grandi sfide del prossimo futuro. Ma a proposito di food delivery, abbiamo visto anche come il Covid ha costretto le aziende a immaginare anche nuovi servizi, come ad esempio le consegne a domicilio da negozio a consumatore, ma non solo della spesa. Yamamai e Carpisa aprono il servizio di delivery, di good delivery. Questo per dire che come in tutti i periodi di grande, di eccezionale emergenza, poi arrivano anche nuove idee. E vado allora a finire. Autoelettrica, cerca tutte blu tra softwareisti e ingegneri, ma ancora Pirelli, il coronavirus ha accelerato lo sviluppo virtuale dei pneumatici e questo articolo stupendo, Israele, più vicino alla carne coltivata. Perché il mondo sta cambiando totalmente e sta andando anche verso cose che sono inimmaginabili. Cioè coltivare la carne anziché allevarla. Vado alla fine, ansia e chili di troppo, le scorie dell'initalità per metà degli italiani. Quanti di noi hanno preso peso in questo periodo e quindi il tema della salute e del benessere delle persone. Ma anche qui due ultimi spunti. sempre di più, questa è Patagonia, questa è una pubblicità di Patagonia, sempre di più l'attenzione sul trattamento delle persone che lavorano diventerà anche un modo di comunicare. Qui ad esempio dice l'ambiente, la responsabilità sociale come brand, stabilire uguaglianza di genere in azienda e sforzarsi per trattamenti corretti è qui dentro l'azienda come strumenti di comunicazione. Allora, adesso lascio scorrere tutti gli altri articoli che vi ho selezionato e ve li ho selezionati mettendoli a disposizione. Quindi chiunque lo vorrà può scrivere a emergenza-spoverato.com e metteremo a disposizione tutti gli articoli che abbiamo selezionato. Iniziamo adesso a mettere a fuoco un po' i temi. Allora per introdurlo, per introdurre la seconda parte, la introduco con alcuni appunti. Abbiamo visto un po' di stimoli, un po' di spunti. Adesso sulla base di questo abbiamo fatto alcune considerazioni, alcune convinzioni. C'è un prima e un dopo. Che cosa abbiamo imparato? Io su questo apro un primo momento di approfondimento. La prima punto. Abbiamo intanto imparato che alcune imprese sono più importanti di altre perché svolgono lavori di pubblica utilità. Ecco questo è un altro tema che è emerso. Ci sono imprese che, anche se non pubbliche, svolgono lavori di pubblica utilità e sono più importanti delle altre e hanno potuto continuare a lavorare, ma devono essere capaci di lavorare, se dovesse succedere, in condizioni di profitto. Quante aziende comunque hanno lavorato in questo periodo, pur potendo, ma senza condizioni di profitto? Due. Le imprese devono produrre in luoghi diversi e diversificare le attività. Abbiamo visto reshoring, ma anche la riapertura dei confini per non poter, per non dover essere di nuovo vincolati da limiti e costrizioni. Tre. Il lavoro deve essere stabilmente organizzato, alternando lavoro di sede e lavoro remoto. Quattro. L'importanza della condivisione del lavoro. Abbiamo imparato l'importanza di condividere il lavoro e di coinvolgere anche i lavoratori nella costruzione del lavoro. E poi il tema della sicurezza e della salute. Questi sono cinque punti che oggi sono chiave, cinque punti che esprimono altrettante convinzioni. e allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, ecco qua, abbiamo provato a mettere a fuoco gli ambiti di intervento, essenzialmente tre, organizzare il lavoro e il costo lavoro, regolare il lavoro da remoto e il lavoro intelligente, lavorare sulla retribuzione e abbiamo costruito un documento che è questo qui, che avete visto, che ce l'avete anche allegato e su questo abbiamo costruito le domande. Quindi questa seconda parte iniziamo a lavorare sul tema domande e misure. Primo tema. Guardando proprio un orizzonte temporale dei prossimi 3-6 mesi. Dieci temi chiave nei prossimi 3-6 mesi. Primo tema. Budget del personale. Aree di intervento. Tre aree di intervento per riordinare i conti. Cassa, ferie, permessi, premi, elementi integrativi. Abbiamo provato allora a elaborare cinque domande da farci. La prima. Cassa. Di quanta cassa abbiamo ancora bisogno? Molti stanno esorendo, hanno esorito le 18 settimane. Poi sono le settimane aggiuntive per le tre regioni. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. Ma di quanta cassa avremo ancora bisogno di qui alla fine dell'anno? Vi è e vi sarà ancora bisogno di ricorrere agli ammortizzatori sociali fino al 31-12. Qualcuno fa un po' di confusione dicendo finito il covid non abbiamo più niente. Intanto ricordiamoci che la cassa per covid sarà estesa, ma comunque abbiamo anche gli strumenti ordinari. La cassa ordinaria, il fisso ordinario è vero che ci sono alcuni settori, alcune aziende che non hanno strumenti, quelle che oggi ricorrono la cassa inderoga, salvo le aziende grandissime che hanno la cassa straordinaria. Ma la domanda che dobbiamo farci è di quanta cassa ancora abbiamo bisogno? Primo tema. Secondo tema. Mentre nella fase iniziale abbiamo collocato in cassa tutti o quasi, specie se avevamo provvedimenti di chiusura dell'attività o di chiusura dell'azienda, oggi per molti la cassa sarà a rotazione e quindi una delle domande che dobbiamo farci è, vi sono ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione dei lavoratori in cassa? Perché ricordiamoci che la rotazione sarà una delle richieste che il sindacato ci farà e quindi rispetto a questo qual è il punto di vista? Tre. Premi. Vi sono premi collettivi da rinegoziare o premi che non hanno soglie di salvaguardia. Molti dei premi di risultato che vi hanno fatto negli ultimi anni avevano soglie di salvaguardia, ma molti non ce le avevano e tutta la parte dei premi collettivi sarà oggi sicuramente oggetto di indagini. Intanto per capire se gli accordi che abbiamo possono essere sospesi, ridiscussi, rinnegoziati o hanno al loro interno clausole che ci consentono di sospenderli senza dover attivare una procedura di accordo. Ferie permessi. Vi sono residui importanti di ferie permessi ancora da smaltire? E allora qui cosa stiamo facendo? In alcune aziende, ad esempio, abbiamo fatto accordi per la liquidazione delle ferie residue, senza toccare ovviamente quelle che sono le ferie di competenza, cercando di trovare soluzioni perché ricordiamo che esiste anche un divieto di monetizzazione delle ferie. Questo divieto invece non c'è per i permessi. In aziende che hanno uno storico di permessi importanti abbiamo anche negoziato una o monetizzazione o riduzione delle scorte di permessi alla fine dell'anno. Si può fare con accordo sindacale e si deve fare poi con accordi individuali. Ma iniziamo intanto a mettere a fuoco i temi di intervento. Ferie e permessi ancora da smaltire, cerchiamo di identificare qual è il perimetro. Vi sono poi elementi integrativi e emolumenti previsti dalla contrazione integrativa che pesano. Molte delle nostre aziende hanno, anche nel settore industria, quattordicesime mascherate dentro contratti collettivi che si ripetono da anni. Forse ce li possiamo permettere, forse no. Cosa fare? Mettiamo a fuoco che cosa si può fare. Si possono fare accordi per una sospensione temporanea o per trasformare quelle misure in un modo diverso, ad esempio convertendo in parte in misure di welfare per risparmiare la parte di contribuzione. Quindi iniziamo a farci una serie di domande su quanta cassa abbiamo ancora bisogno. Rotazione sì, rotazione no. Premi collettivi, premi di risultato da rinegoziare, sospendere, clausole che abbiamo dentro i premi. Ferie permessi da liquidare, eliminare o accantonare, costruendo ad esempio fondi di solidarietà sulle ferie, elementi integrativi che pesano e che possono essere magari oggetto di una negoziazione per una sospensione temporanea. Secondo tema, stipendi e premi. Anche qui cinque domande. Rimodulare i premi individuali e collettivi, accordi di innovazione e trasformazioni contrattuali. Che cosa possiamo fare? Dirigenti, vi sono già accordi temporanei di riduzione degli stipendi? Molte delle aziende con cui lavoriamo hanno fatto accordi per ridurre temporaneamente per 6 mesi, per 12 mesi, normalmente questo è l'orizzonte temporale, del 20, del 30%, qualcuno anche di più, diciamo che mediamente è 20-30%. Sappiamo che i dirigenti sono esclusi dal divieto licenziamento, quindi potrebbero essere oggetto anche di provvedimenti di riorganizzazione che prevedono la chiusura dei rapporti, ma ci interessa anche tenerli e questo potrebbe essere anche una forma per mantenere le professionalità all'interno chiedendo temporaneamente un sacrificio. Superminimi. Vi sono elementi che possono essere ridotti temporaneamente, sappiamo la distinzione tra superminimi collettivi irriducibili e superminimi individuali che possono essere ridotti. Ma anche qui bisogna avere chiaro qual è il perimetro e quindi lavorare sulla dinamica di costo per andare a vedere quali sono gli elementi delle retribuzioni che sono riducibili. Superminimi individuali, quanto pesano rispetto al costo del lavoro, premi, indennità, indennità di funzioni per andare a vedere quelli che sono gli elementi riducibili. Part time. Ci sono lavoratori il cui rapporto può essere trasformato da full time a part time? Ci sono lavoratori a cui possiamo proporre temporaneamente per 12 mesi, 6 mesi, 24 mesi una riduzione dell'orario di lavoro? Sono tutti accordi, accordi che si possono fare, peraltro la trasformazione del tempo pieno in part time non ha particolari formalità, è un accordo libero tra le parti, può avere anche una durata determinata e quindi non ha tempo indeterminato, quindi temporaneo. Accordi di innovazione. Ci sono lavoratori a cui può essere proposta una modifica del livello con una riduzione dello stipendio? Il 2103 è la cornice di riferimento a un punto di vista legale, si possono e si stanno facendo accordi di innovazione temporanea o definitiva. Premi. Ci sono premi individuali che vanno sospesi o premi collettivi che possono essere modulati e convertiti in welfare? Questo è un altro degli elementi su cui si sta lavorando. Ridurre il costo dei premi mantenendo il netto e consentendo quindi di convertire il premio in welfare ti aiuta a ridurre il costo mantenendo il netto. È chiaro che questo ha bisogno invece di accordo sindacale, di confronto con le parti sociali per andare a ridefinire e rimodulare premi già esistenti. Come avete capito, quello che ci stiamo sforzando di fare, abbiamo provato a fare, è individuare tutta una serie di misure che possono essere oggetto di confronto o con le singole persone individualmente o con il sindacato, laddove sia presente in azienda, per mettere a fuoco quelle che sono tematiche che queste, come è chiaro, riguardano il perimetro dei costi. Pensionandi. Età anagrafica. Ci sono lavoratori a cui mancano meno di 5 anni alla pensione? Perché diciamo 5? Perché ragioniamo in questo modo, diciamo che gli ammortizzatori sociali dureranno almeno un altro anno, perché potremmo avere cassa per Covid e poi strumenti ordinari e potremmo gestire almeno per un altro anno strumenti di integrazione salariale. Poi in caso di cessazione di rapporto, pensionandi, quindi i lavoratori che stanno con noi dal lungo tempo avranno due anni di naspi e quindi uno più due con contribuzione garantita fa tre, vorrebbe dire che dovresti integrare il reddito o ragionare su incentivi perimetrati su due anni. Poi è chiaro che le persone in naspi prendono meno, è chiaro che in cassa prendi meno, però abbiamo lavorato con molte aziende per andare a definire perimetri che sono tutti quei lavoratori a cui mancano 5 anni alla pensione e andiamo a vedere se ci interessa, ci conviene, c'è la possibilità di facilitare gli esodi, magari che cosa in cambio di disponibilità di inserire ragazzi giovani e dare quindi nuovo lavoro, nuove assunzioni, fatti generazionali. Stiamo lavorando anche a questo, era un tema che già avevamo affrontato lo scorso anno quando avevamo provato a ragionare sul contratto di espansione, una tipologia contrattuale introdotta dal decreto crescita di un paio di anni fa e che aveva visto alcuni esperimenti interessanti in Tim e poi in Ericsson e poi avevamo ragionato anche noi con qualche azienda su questi contratti di espansione che vanno a scadenza nel 2020. Saranno sicuramente rifinanziati perché l'esperienza è stata positiva, oggi riguardano soltanto le aziende grandissime, più di 1000 dipendenti, ma potrebbero essere portati anche su una soglia dimensionale più bassa, adesso vedremo che cosa diranno. Ma al di là del contratto di espansione, questi patti di generazione si possono anche già fare adesso. Abbiamo interesse a inserire giovani al posto di lavoratori da pensionare, il patto con il sindacato è facilitare l'uscita dei lavoratori che stanno prossimi alla pensione in cambio di nuove assunzioni o di una porzione di nuove assunzioni. Abbiamo budget per facilitare gli esiti di alcuni lavoratori, i volontari. In un contesto come questo di divieto di licenziamento, l'unica strada possibile sono accordi volontari, si possono fare, sappiamo che non è vietato definire accordi per facilitare o mobilità volontaria, bisogna avere budget, abbiamo budget. Ricambio, ci sono piani di rimpiazzo per il personale chiave prossimo alla pensione, molte delle nostre aziende oggi si trovano in una condizione particolare perché l'età media è molto alta e quindi devono iniziare ad affrontare il tema del ricambio generazionale delle persone chiave prossime alla pensione. Siamo pronti, abbiamo un piano di rimpiazzo, iniziamo a ragionare sull'orizzonte dei prossimi 2-3 anni, quali saranno le persone chiave che nei prossimi 2-3 anni potranno andare in pensione? Tutto questo dentro un patto generazionale. Queste sono le tematiche legate al tema pensionati. Sempre su questo tema con un altro approccio, fondi di solidarietà e welfare. Abbiamo visto in questi mesi ad alcune aziende sperimentare fondi di solidarietà per i propri dipendenti in cui dipendenti donavano, mettevano a disposizione di altri dipendenti ferie permessi. Ci sono lavoratori con saldi negativo di ferie permessi che potrebbero essere aiutati, molte aziende hanno istituito questi fondi di solidarietà. Anche noi abbiamo seguito aziende, ho dato supporto ad aziende che hanno introdotto queste forme di assistenza, supporto, previdenza aziendale. Il tema del welfare. Abbiamo attivato piani di welfare strutturati per la totalità della forza lavoro. Abbiamo capito in questo periodo che le aziende che avevano attivato piani di welfare hanno resistito in un modo diverso, perché hanno messo dentro i piani di welfare ad esempio i bonus per le babysitter, hanno messo dentro i piani di welfare servizi di assistenza e cura per i genitori bisognosi che stavano a casa, servizi di assistenza e cura per gli anziani, perché abbiamo molti lavoratori che hanno anziani di cui si devono prendere cura e chi aveva già attivato strumenti e misure di welfare ha potuto usare quello che aveva convertendo nei nuovi bisogni. Quindi sempre di più ci rendiamo conto che welfare non è soltanto una misura, uno strumento per pagare meno, ma è anche per dare risposte a effettive situazioni di bisogno che in questo periodo qua poi sono diventate così evidenti. Alcune aziende poi hanno costituito o avevano già costituito fondi aziendali emergenziali, è un'esperienza che in certi settori penso in credito avevano già fatto molte banche, perché il contratto lo prevede, quello di attivare forme di fondi previdenziali per gestire situazioni di emergenza. Altre aziende negli ultimi anni lo avevano fatto e oggi hanno potuto contare su fondi su cui era stata versata contribuzione e montante per gestire queste situazioni di emergenza. La prima parte quindi è chiara, tutto il tema del costo, tutto il tema dei servizi di supporto di assistenza alle persone, ai bisogni delle persone. Punto 5, lavoro da remoto, co-working, lavoro smart. Qualche tempo fa, post lockdown, quando abbiamo ripreso un po' ad andare in giro, ho fatto una chiacchierata in macchina con un direttore del personale che mi faceva queste riflessioni che voglio condividere. Diceva, la nostra azienda non ha mai facilitato o dato la possibilità alle figure dirigenziali apicali di lavorare a distanza, mai, perché la nostra direzione è sempre stata convinta che i dirigenti devono essere presenti da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 di ogni giorno. Abbiamo però capito che si può fare e allora la domanda che mi hanno fatto è stata questa. Ma tu come la imposteresti? E allora io ho dato la mia soluzione, la mia risposta, quello che penso veramente. Sempre di più le figure apicali ci chiederanno di lavorare in modo diverso e abbiamo capito che si può lavorare anche in modo diverso. Per me la regola è 3 più 2. 3 di sede, 2 in un altro posto, che non è necessariamente casa. Ma 3 di sede e 2. E allora provate a ragionare anche come cambiare questo possa anche rendere attraente poter lavorare o venire a lavorare in posti dove figure apicali importanti non verrebbero mai. Perché se tu vuoi portare figure apicali importanti ad Abono Terme piuttosto che a Mestre, piuttosto che a Udine, o li paghi veramente tanto oppure troveranno altre soluzioni in posti che magari sono migliori. Milano, piuttosto che altre città. E allora iniziamo a ragionare su formule diverse. Iniziamo a ragionare anche per gli apicali su formule come 3 più 2 e strutturiamolo. E per gli impiegati 4 più 1. Oggi se noi andiamo a guardare gli accordi sul lavoro a distanza, sullo smart working, per molti è un giorno al mese, 32 ore al mese, qualcuno di più. Proviamo anche a immaginare di costruire rapporti con categorie di lavoratori che possono lavorare in questa modalità 4 più 1. E gli operai? È possibile introdurre forme di premialità per gli operai? E questa è una mia convinzione. Gli operai non possono lavorare a distanza. Però pensate anche a quello che si è detto, cioè di ragionare sul lavoro a distanza e sul lavoro da casa o in un altro luogo come una forma di premialità o come uno strumento per consentire anche alla forza lavoro produttiva di ragionare su tematiche come innovazione, miglioramento, formazione, riqualificazione. Cioè di provare a immaginare di lavorare anche con gli operai su un 4 più 1 dedicando l'uno alla formazione, riqualificazione, aggiornamento. Il fondo nuove competenze andrà in questa direzione perché consentirà ad esempio alle aziende di ridurre gli orari scambiando formazione con un'integrazione salariale. Ma proviamo a pensare se siamo disponibili a farlo. E poi co-working. Non so se avete visto la pubblicità di Regus che dice una cosa intelligente. Dice sempre di più si lavorerà a distanza ma non necessariamente a casa. costruiamo spazi di lavoro condiviso dove tu puoi lavorare a distanza in condizioni in cui ti consentono di lavorare bene. Perché per molti il lavoro a distanza è anche stata un'esperienza negativa. La casa non era pronta. C'erano mille altre distrazioni a casa. E allora oggi guardate come si sta ripensando anche tutto il tema del co-working come luogo di aggregazione di lavori, di lavoratori che possono lavorare a distanza ma non a casa mettendo a disposizione gli spazi di co-working, strumentazione, tecnologia, dotazione di mezzi. Infatti il tema è abbiamo strumenti per facilitare il lavoro a distanza. E qui Enrico ricordiamo tutto il tema dei crediti d'imposta per le aziende che investono su tecnologia per lavorare a distanza. Sei, sto andando veloce ma spero di riuscire nell'intento. L'intento è chiaro. Quello di proporvi le domande su cui fare una riflessione. Risultati verso ore. Anche qui molti ci dicono sono molto interessato al tema dei risultati. Ma allora io dico passare da una concezione del contratto come scambio di ore a una concezione del contratto come scambio di ore ai risultati è un salto quantico. Perché? Perché abbiamo bisogno di tante cose che magari nella nostra azienda ancora non ci sono. Primo, mappatura. Abbiamo mappato ruoli, funzioni e compiti in azienda per cui le persone sanno che cosa devono fare, quali sono le responsabilità che hanno, le funzioni che hanno, il ruolo che hanno, i compiti che hanno. Perché se invece la risposta è le persone fanno quello di cui c'è bisogno, è difficile poter pensare di scambiare risultati con disponibilità. Perché quella è una mera messa a disposizione. Abbiamo sistemi che consentono di misurare le prestazioni dei collaboratori? Abbiamo chiarezza prima di tutto sui risultati che ci aspettiamo da alcuni lavoratori. Questo per dire che poi non tutti i lavoratori possono lavorare su risultati, su attività che hanno degli obiettivi. Perché dobbiamo aver chiaro che per molti l'attività è attività rutinaria, dove il concetto è scambio ore verso disponibilità. Non tutti possono lavorare su obiettivi e su risultati. Ma rispetto a quelli che possono lavorare su risultati, abbiamo chiarezza dei risultati. Perché? Perché tutte le volte che andiamo a ragionare su risultati, che cosa è che succede William? Iniziamo anche a discutere dei risultati. Quando l'hai raggiunto? In che cosa consiste un risultato? Cosa intendi per risultato? E poi mezzi. Abbiamo messo i lavoratori in grado di raggiungere i risultati assegnati? Perché l'altro tema è non ho raggiunto i risultati perché non mi hanno dato la disponibilità o i mezzi o i fattori per poter raggiungere i risultati. E poi controlli. Siamo disponibili ad abdicare a forme di controllo sulla presenza in luogo di flessibilità e responsabilità. Quante aziende in questo periodo ci hanno detto sì ma noi com'è che facciamo a sapere se i lavoratori stanno lavorando? Capisci che dietro c'è un retropensiero. Lavori in quanto ti vedo, lavori in quanto sei qui, in quanto sei a disposizione. Quindi risultati verso ore. Dietro c'è un cambio di strategia, un cambio di mentalità per il quale le nostre aziende devono essere pronti. Strumenti per lavorare a distanza in gruppo è il tema della protezione dei dati e della privacy dei lavoratori. Lavorare a distanza intanto significa, abbiamo visto prima quell'articolo, cambiare anche il modo di organizzare il lavoro, il modo di lavorare anche di squadra. Oggi molti stanno lavorando anche su nuove logiche di organizzazione, logiche agili o agile piuttosto che gerarchiche. Lavorare a distanza però significa anche mettere in atto sistemi efficaci di scambio delle informazioni. Oggi sono strumenti come ad esempio le app. Noi al nostro interno usiamo delle app per gestire la comunicazione sulle attività che stiamo facendo che ci consentono di, a distanza, comunicare efficacemente mettendo tutte le informazioni dentro un unico silos. Lo usiamo ad esempio un'app che si chiama Trello. Lavorare a distanza significa anche saper usare i sistemi di videoconferenze e in questo periodo tutti... c'era un libro che una volta si intitolava morto di riunioni. Adesso il titolo potrebbe essere morto di videocolo, di videoriunioni. Perché anche qui è stata fatta adeguata formazione, vi sono regole per l'uso di questi strumenti e vi è cultura e disciplina dell'organizzazione del lavoro per priorità e importanza. Nel momento in cui tu organizzi il lavoro a distanza devi anche responsabilizzare le persone ma dare loro strumenti per disciplinare e organizzare il lavoro. E allora qui due spunti. Uno Trello che gestisce liste di to do e uno il sito di Francesco Cirillo sulla tecnica del pomodoro sulla organizzazione del lavoro e le regole di organizzazione del lavoro, in particolare quando lavori per conto tuo o quindi senza controllo. Otto. Sto andando lungo ma recupero dopo. Certamente sono tutti... non ho ancora abbandonato. Otto. Welfare, strumenti per rimodulare le attribuzioni sui bisogni reali. RAL. Abbiamo mai pensato di sostituire pezzi di RAL con misure di welfare. Lo stiamo facendo in alcune aziende dove stiamo andando a proporre ai lavoratori di... non possiamo darti più stipendio ma possiamo darti più netto. Come? Trasformando un pezzo della RAL in misure di welfare. E questo apre tutta una logica di confronto sui bisogni reali delle persone perché le persone sono disponibili a far questo soltanto se percepiscono l'utilità di questo perché dà i servizi di cui le persone hanno effettivamente bisogno e sono disponibili a cedere retribuzione per avere servizi per un netto equivalente più alto. territorio. Ci sono rapporti con altre aziende del territorio per scambiare beni e servizi? Abbiamo visto come oggi le aziende stanno dentro il territorio di riferimento non soltanto per rimettere sul territorio una parte del proprio benessere ma anche per scambiare bene i servizi tra di loro e quindi reti di welfare, reti di territorio che scambiano beni e servizi. Supermercati che danno i ticket compliments per le aziende dell'industria manifatturiera in cambio di qualcos'altro. Quali sono i servizi che la nostra azienda potrebbe dare senza spendere troppo? E questo è un altro dei temi su cui ci stiamo interrogando. Pensiamo a tutta una serie di servizi di supporto alle persone. E poi il tema dell'equità che per me nel prossimo futuro sarà uno dei temi chiave. Abbiamo mappato la curva retributiva e ragionato sulle differenze di trattamento interno. Abbiamo fatto qualche tempo fa un seminario di approfondimento sul tema della mappatura. Persone sane, aziende sane. Eccolo qua. La salute delle persone che lavorano dai protocolli a una politica attiva a favore delle persone per mettere al centro il benessere di tutti. Fragili. Ci sono collaboratori che hanno mostrato particolare in situazioni di bisogno? Protocolli sulla sicurezza. Li abbiamo attivati? C'è confronto e condivisione con i lavoratori sulle misure di sicurezza? Fino all'altro ieri, quando parlavamo di sicurezza, la logica era ti dico cosa c'è da fare. Abbiamo capito invece quanto è importante anche raccogliere dai lavoratori stessi spunti, informazioni, indicazioni su quelle che sono le misure che servono. Tutti hanno capito oggi quanto è importante star bene. Pensate cosa significa oggi trovare un positivo, una persona positiva all'interno di un'azienda. Pensate cosa significa in termini di ricadute negative sulla organizzazione del lavoro, sul business, sull'immagine dell'azienda. Abbiamo attivato misure per il benessere individuale e collettivo delle persone. Noi qualche tempo fa abbiamo fatto una survey su un certo numero di dipendenti per cercare di capire quali erano le problematiche più ricorrenti che avevano sul lavoro. Bene, la nostra visione era sempre quella di dire che le problematiche avevano a che fare con questioni che poi potevano creare contenzioso, quindi questioni riguardanti la retribuzione, il trattamento retributivo, i livelli di inquadramento o trattamenti vessatori in azienda. Bene, su dieci persone, otto, scusate, su dieci problemi, otto hanno a che fare con le relazioni tra le persone, relazioni con i colleghi e relazioni con i capi. Quanto è misconosciuta questa parte nella gestione del personale? Controlli. Abbiamo introdotto sistemi di verifiche e controlli tramite app e tools digitali. Ci sono tutta una serie oggi, lasciate stare immuni e flop immuni, ma tutta una serie di strumenti digitali che ci consentono oggi di mappare all'interno delle aziende come stanno i lavoratori nel rispetto della salute, della sicurezza, ma anche della privacy dei lavoratori. E la figura del medico competente, abbiamo fatto qualche tempo fa un incontro proprio con un medico legale che fa il medico competente, io ogni tanto mi confondo tra medico legale e medico competente, che sono due cose diverse, medico competente. Quanto importante oggi è coinvolgere i medici anche nella definizione delle misure di sicurezza, ma con un ruolo diverso, un ruolo attivo, un ruolo partecipativo, diversamente dal passato. Quindi abbiamo coinvolto il medico competente, attivato un tavolo di confronto continuo. Bene, arriviamo alla fine. Tutto questo secondo me deve andare in un documento programmatico che dice sentite, nei prossimi due o tre anni noi dov'è che vogliamo andare per quel che riguarda la nostra azienda e il personale. Quali sono gli obiettivi dell'azienda nei prossimi tre anni per quel che riguarda il personale? Abbiamo da affrontare una situazione di emergenza, benissimo. Dobbiamo darci una mano. Possiamo prenderci degli impegni a non lasciare indietro nessuno, ma a fronte di quali obiettivi? Tutto questo può diventare quello che ho chiamato qui un patto sociale per rilanciare l'azienda, andare a definire principi e valori a cui l'azienda si ispira nella gestione dei lavoratori, definire gli obiettivi dell'azienda nei prossimi tre anni per quel che riguarda il personale, andare a capire bene quelli che sono i bisogni delle persone chiave e che cosa stiamo facendo per loro, andare a capire bene che cosa si aspettano i lavoratori da noi e che cosa noi ci aspettiamo da loro, per andare a definire un patto sociale tra azienda, lavoratori e sindacati, anche con le istituzioni, per dire insieme nei prossimi tre anni che cosa faremo. Ci sono già aziende che lo hanno fatto, aziende che stanno lavorando su questo. Perché? Perché sempre di più ci dobbiamo rendere conto che o sapremo valorizzare le persone dentro le nostre aziende o resteremo indietro, non saremo attrattivi, non saremo aziende dove le persone vogliono restare o vogliono andare a lavorare. Abbiamo da affrontare adesso una fase di emergenza, benissimo, i temi del costo, il tema del riposizionamento, della rimodulazione, ma abbiamo anche da affrontare temi che ci portano nel futuro. Alternanza lavoro di sede, lavoro da remoto, nuovi modelli di partecipazione, nuovi modelli di remunerazione e welfare, tutto questo deve diventare un documento che guida l'azienda nei prossimi due o tre anni. E io insisto sulla necessità di scrivere un documento, perché i documenti orientano le azioni. scrivere ci mette di fronte a degli impegni e questo documento può diventare un documento interno come un documento condiviso, può essere un patto sociale, può essere un accordo sindacale, può essere quello che volete, ma funzionerà nella misura in cui si è partecipato. Quindi l'ultima parola chiave è partecipazione. Siamo disponibili a introdurre sistemi di partecipazione dei lavoratori? Questo oggi ci stanno domandando in tanti. di poter partecipare nella costruzione del prossimo futuro. Allora, io mi fermo perché sono arrivato un po' lungo, ma abbiamo poi preparato, non l'abbiamo ancora messo dentro i materiali, ma c'è già? Benissimo. Allora, abbiamo estrapolato i 10 temi e le 50 domande in un documento... Ah, ok, perfetto, benissimo. Allora, lo stiamo preparando. Stiamo preparando i 10 temi e le 50 domande in un documento unico da mettere a disposizione di tutti come strumento di autovalutazione per iniziare a ragionare. Noi lo stiamo facendo con le aziende con cui lavoriamo, anche al nostro interno, perché sono tutte tematiche su cui sei credibile nella misura in cui hai provato a farle davvero e non le hai lasciate soltanto scritte su un documento, su un pezzo di carta. Ci fermiamo qua. Poi vi abbiamo lasciato un po' di altri documenti da leggere. Spero che sia stato un incontro stimolante, anche se necessariamente abbiamo dovuto, anzi ho dovuto andare veloce, ma poi la registrazione è a disposizione di tutti e con chi vorrà potremo aprire momenti di confronto per ragionare insieme sulle risposte da dare alle domande e, l'ho detto prima, facendoci le domande ci verranno altre domande. È proprio una questione di metodo. Dando le risposte e condividendole avremo stimoli. Quindi prendiamoci il tempo per ragionare e dare le risposte e poi apriamoci il confronto. A settembre su questi temi sicuramente ci rivedremo, a ottobre abbiamo il grande evento in cui su questi temi ragioneremo chiedendo a che cosa, ai direttori del personale delle aziende di dirci che cosa hanno fatto, che cosa hanno fatto in concreto su questi temi qua. Mi fermo qua perché sono arrivato alle 4 e a tutti allora auguro un buon pomeriggio. Grazie. 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 Grazie.